Ma la Fantec GT16e è un buon modello per iniziare? Scopriamolo subito! Trasmissione ok! Velocità, niente male! Non è da fuoristrada, ma è divertente uguale! A usarta pure! Divertente, eh? Ma come robustezza? Testiamola! E niente, si è rotta! Ma di che? Sotto la carrozzeria graffiata la meccanica è intatta! La nuova Fantec GT16e è a prova di urti! Anzi, a prova di tutti! Ciao!